Senti, scusa, non è che ti puoi spostare un attimo che sto facendo... Sì, scusa Allora, ma no, non te l'avevo riconosciuto con sti capelli No, che stavo facendo un selfie con queste... Tartarughe Bravo Vabbè, queste sono in via restinzione, no? Oddio, non lo so, non credo Vabbè, ma che fate st'estate? Oh, considera che io sto andando in questo posto pazzesco, Zamboanga Dove sai che io ho il pallino per l'ambientalismo, attivismo, eco-green, no? Vabbè, insomma, questo posto stanno facendo la reintroduzione di quest'alga stra-importante per la roba dell'ambiente, no? Dai Sì, sì, ma dai, quello che si chiama... Come cavolo si chiama? Vabbè, comunque, il mare è da Dio e il residence... Pazzesco Bravo E voi invece che fate? Ma in realtà anche noi stiamo pensando di fare una vacanza con un occhio all'ambiente Dai, pazzesco! E porto i bambini a vedere questi laboratori dove hanno trovato il DNA di questa specie che adesso stanno... Ah, certo, ma sì, la roba di Elon Musk, no? No, Bill Gates Ma sì, dai, la roba degli orsi polari No E i delfini? Il panda? La starna italica Ah, in California, certo! No, in Emilia-Romagna Hanno ritrovato il DNA e grazie a un progetto europeo adesso è tornata sul delta del Po Ma è tipo fenicottero? No, è tipo una gallina Però è importante lo stesso per la biodiversità Ma sta barna, almeno è in via d'estinzione, sì o no? La starna? No, in realtà era proprio estinta in natura Ma grazie a questo progetto adesso è tornata nel suo habitat Pazzesco, no? Dai, ti offro un caffè e ti racconto la storia della starna Dai, dai, va bene Ma... ma la starna? È quella che starnazza? Eh sì Nooo, pazzesco! Ogni giorno nuove specie si estinguono Insieme possiamo salvarle A presto! Grazie a tutti.